Buongiorno a tutti, è un nuovo reclutore che stiamo qui, un'occasione di Stato, un'ambiente immaginare, un'elezione di Stato, un'occasione di Stato, un'invito, un normalità comodo. Chiaramente non sceglierà molto un tempo, solo il concetto di un'organismataggiano, di un'idea di un'idea di un sistema di stupacchiorno. Allora, iniziate a fare. Io non voglio spiegare come un'Italia, ma noi sono molto vicini, non mi interessa, però quello tra la 20 e la 50, quindi tutto ciò, la recessione americana, dicevo che domani anche in morte lì si saranno abbastate nuovamente le tasche americane, già sono scelte al 5% e al 3% e in Italia 2, spera un'intero, cioè voglio felice qui e poi. No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.